Ragazzi e ragazze benvenuti o dovrei dire bentornati a un anno di distanza dal video 4 consigli su dove iniziare su Football Manager 2022, questa volta la versione su Football Manager 2023 Cercherò anche quest'anno di darvi qualche consiglio interessante, qualche spunto diciamo da dove poter iniziare perché alla fine della fiera se si riesce diciamo a trovare qualche carriera al di fuori delle classiche diciamo della propria squadra del cuore o delle squadre un pochino messe un po' meglio magari ci si può anche divertire e scoprire qualche lato interessante di questo Football Manager Prima di iniziare ragazzi vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina, è sempre importante condividete questo video con quanti più amici possibile magari potete dare anche voi dei consigli su quale carriera iniziare su Football Manager 2023 vi ricordo che è il momento della scrittura di questo video Football Manager 2023 è in beta quindi vabbè potete tranquillamente già iniziare i vostri salvataggi verranno trasferiti in un gioco finale il gioco uscirà qui a un paio di settimane a diciamo la versione 1.0 non perdiamoci in chiacchiere e andiamo direttamente al primo alla prima squadra che vi consiglio su questo Football Manager 2023 ragazzi come primo consiglio andiamo in terra di Francia quindi nella Ligue, non nella Ligue 1, nella Ligue 2 e andiamo al Paris FC perché intanto è una squadra che è pronosticata come quarta in classifica quindi secondo me è anche messa nelle condizioni di provare subito il salto di qualità quindi il salto di categoria e sarebbe figo poi andare a fare lo scontro quindi a lungo termine come diciamo obiettivo finale quella di andare a sfidare direttamente Paris Saint Germain e chissà magari buttargli via addirittura la vittoria il dominio in campionato ora stiamo parlando di una squadra che parte in serie B francese e deve andare a scontrarsi contro una delle più ricche squadre del mondo chiaramente c'è il grado di difficoltà c'è ed è molto elevato mi permetto di dire che secondo me è comunque un buon tentativo di sfida qua se non stiamo cercando di trovare le cose più semplici ma delle sfide interessanti con anche degli obiettivi a medio e lungo termine non soltanto vincere a caso questo l'obiettivo è quello di andare a portare via quindi a sfidare nell'anno successivo quindi chiaramente andare subito per la promozione primo anno e se essendo dichiaratamente quarti come pronostico dei media secondo me con i giusti accorgimenti si riesce direttamente ad andare subito in Ligan sfidare subito quindi nel secondo anno il PSG e provare a vincere nella stracittadina è una squadra tra l'altro molto recente fondata nel 1969 quindi è anche una storia abbastanza scarna se andiamo a vedere ha vinto solamente un campionato di Francia divisione 2 gruppo B è addirittura una coppa nazionale tanti anni fa se andiamo a vedere nel 2001-2002 quindi 20 anni fa ormai era nella seconda, terza, quarta divisione francese è stata una crescita una crescita con qualche atti a bassi è in stabilimenti in Ligue 2 dal 2017 quindi nemmeno poco l'anno scorso ha finito a quattro posto quindi secondo me ci sono tutte le premesse per fare bene e ripeto nel lungo periodo magari 3, 4, 5 anni andare a portare via la vittoria in campionato direttamente a PSG non sarebbe secondo me non è un brutto una brutta carriera con i giusti acquisti può anche essere divertente anche soltanto per sfidare l'egemonia monetaria del PSG perché no? il secondo consiglio ragazzi torniamo in Italia andiamo in Serie B andiamo in Sicilia andiamo a Palermo e perché proprio Palermo? beh i rosa e nero hanno una storia abbastanza importante nel nostro campionato non mi devo star qui a snocciolare chi hanno trovato come come diciamo grandi grandi giocatori ovviamente non li sto qua a rammendare perché tra Dybala tra Tony tra Ilicic sono gli iscritti sotto ve ne ho citati tre Edinson Cavani cioè voglio dire sono abbastanza miccoli corini sono abbastanza hanno avuto un impatto in Serie A il Palermo assolutamente quella fondata nel 1900 ovvero è chiaramente fallita più volte rimessa in piedi l'ultima presenza in Serie A se non ricordo male stiamo parlando di qualche anno fa del 2016 è addirittura arrivata in Serie D dopo il fallimento dichiarato nel 2019 2018 il fallimento che gli ha fatto riportare ripartire dalla Serie B dalla Serie D scusatemi l'anno del Covid che è stato praticamente interrotto Serie D il campionato non più ripreso erano primi in classifica sono stati fatti passare avanti due anni fa settimi l'anno scorso terzi hanno rischiato di arrivare in Serie A in Serie A diretti quindi secondo me quest'anno prendere il Palermo ora quando vedete le grafiche aggiornate con il logo e il kit perché gioco appena uscito devo ancora trovare i kit giusti sono questione di tempo e secondo me riuscire a fare salto di qualità e arrivare finalmente tornare finalmente in Serie A dopo tanti anni secondo me può essere un buon obiettivo e per quanto mi riguarda guardando anche la storia delle competizioni vinte dal Palermo tornare laddove erano riuscite ad arrivare tanto tanti anni fa quinti in campionato come alcuni di Paterpense sia il miglior risultato storico raggiunto dal Palermo tornare là no? quindi in Europa quindi in questo caso quinta posizione Europa League secondo me è un bellissimo è un bellissimo obiettivo di lungo periodo nemmeno troppo di medio perché secondo me con gli acquisti giusti il Palermo può fare la differenza il pronostico di media è dodicesimo quindi attenzione l'anno scorso hanno fatto molto bene quest'anno devono riconfermarsi e non è detto lo stadio è il Barbera quindi abbastanza bello oserei dire quando ci sono ancora le immagini devo scaricare tutti i pacchetti migliaia di gigabyte di roba che si tratta giù non vi ho detto Parma non vi ho detto Genova non vi ho detto Cagliari perché secondo me sono le cose più semplici le prime cose che ci vengono in mente per la Serie B questa è una Serie B molto dura a mio avviso quindi sarà anche bella giocarla il Palermo nel lungo periodo è una bella sfida secondo me è una bella sfida che può portare può riportare i rosa nero in alto magari riallacciando i rapporti con Sud America con i tanti campioni che hanno trovato sia argentini che uruguayani è un buon test diciamo di qualità e secondo me può venire a fare una bellissima carriera anche qua save abbastanza lunghi dai 5 ai 10 anni secondo me si può fare belle cose con il Palermo per il prossimo consiglio ragazzi andiamo anzi torniamo in Germania torniamo perché l'anno scorso vi ho fatto tutto un bonus me lo ricordo bene sulle nobili decadute di Germania diciamo adesso sono tutte qua più o meno perché qui ci troviamo in Zweite Bundesliga come l'hanno rinominata l'anno scorso Hamburgo che andremo a vedere tra poco a Neufer e Kaiserslautern che è riuscito a fare salto di qualità da solo quindi l'anno scorso si sono hanno raggiunto la promozione sono molto contento però secondo me l'Hamburgo è una delle squadre più fighe da prendere però con un obiettivo molto più complicato perché vedete qua la posizione prevista è già prima quindi prendiamo una squadra che è già per i pronostici dei media con l'organico giusto per fare salto di qualità in Bundesliga però stiamo parlando di una squadra che nella sua storia è anche una Champions League quest'anno vedete hanno anche avuto tutte le varie licenze quindi si vedono tutte le cose fatte bene una Coppa delle Coppe a 6 Bundesliga e manca dalla Bundesliga dal campionato 2017-2018 nel quale è stata retrocessa e ha fatto 1, 2, 3, 4 campionati in Serie B secondo me riportare il prima possibile l'Hamburgo direttamente quindi dal primo anno passare subito in Bundesliga e subito provare all'assalto all'Europa secondo me è fattibile e vi dico di più dato che quest'anno in Bundesliga manca un certo Robert Lewandowski e un certo Erling Holland secondo me se il gioco non scazza può essere che possibile vincere il campionato perché io ho fatto 4 stagioni 3 o 4 stagioni l'anno scorso il campionato tedesco ed era un casino cioè il Bayern era veramente una squadra ingiocabile spesso l'avevo veramente battuto poche volte con il mio Mischengladbach che è la squadra di metà classifica portata in Europa in Champions e a vincere addirittura una Coppa Nazionale secondo me con l'Hamburgo si può avere in fuori una roba molto bella e nel lungo periodo con i giusti inserimenti con i giusti investimenti con le giuste tattiche riportare in Europa per vincerla quella Champions League non è una cosa impossibile certo si vorranno 5-6 anni però qui diciamo che il primo anno in Serie B è penso un anno di transizione con le dovute precauzioni senza lasciare senza lasciare nulla di scontato andare direttamente in Bundesliga dovrebbe essere abbastanza semplice e da lì avere già un organico pronto per salvarsi tranquillamente anzi puntare direttamente l'Europa magari una Conference League non per forza subito la Champions o l'Europa League quindi magari provare a un obiettivo sesto settimo posto in maniera tale da rimettere diciamo far rientrare la squadra in Europa far rientrare i soldi aumentare il blasone far arrivare gente più forte ovviamente come al solito detto questo ragazzi andiamo all'ultimo consiglio per oggi o meglio per quest'anno di quello che mi per quanto mi riguarda il Football Manager 2023 e torniamo nel nostro bel paese quindi torniamo in Italia ma facciamo un salto ancora più giù Serie C Girone C ACR Messina ora qui dentro ci sono anche ci sarebbe anche il Pescara che ultimamente è stato in Serie A nemmeno troppo tempo fa però secondo me il Messina è una sfida di quelli importanti perché il Messina arriva dalla Serie D il Messina arriva da tanto tempo tanti anni difficili con continue fallimenti retrocessioni e il Messina è dato diciottesimo quindi praticamente penultimo terzultimo quello che sono quindi è complicato il Messina a un certo punto è arrivato settimo nel campionato 2005 2004 in Serie A ha fatto molto bene poi guardate che picco tremendo perché poi retrocessione l'anno due anni dopo altra retrocessione subito ma poi c'è stato il fallimento e la ripartenza dalla Serie D Serie D che c'è stato parecchio anni parecchi anni è ritornata in Serie C nel 2014 è ripiombata in Serie D qualche anno dopo e due anni fa è riuscito a qualificarsi l'anno scorso si è salvata a 14esima posizione e a mio avviso il Messina è quella sfida che ha quel sapore dannata che secondo me nel lunghissimo periodo può venire fare una 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 stagione una stagione una carriera veramente figa dentro qui si ricordano gente come Riccardo Zampagni addirittura Igor Protti è passato di lì insomma per non citare altri che poi hanno fatto fini brutti a livello giudiziale qui ragazzi siamo davanti a una squadra che ha vinto una Serie B diversi campionati di Serie C ma che veramente era arrivata a toccare il cielo con un dito quell'anno addirittura danni ho promossa il Cera me lo ricordo Messina era una squadra rossa che è stato poco in Serie A però quando è stata veramente colpito è a mio avviso un ritorno a Messina del Messina un ritorno delle squadre delle squadre siciliane secondo me è tanto figo manca qua dentro il Catania che se non ho visto male non dovrebbe essere dovrebbe essere andato ancora più sotto purtroppo in un campionato che non è sì esattamente è ancora Serie D il Catania era un'altra bella sfida che secondo me appena torna su l'anno prossimo si può provare perché se no basta bisogna aspettare la mod della Serie D perché se no non c'è la possibilità di giocarlo qui la Serie C è il minor campionato più in basso non si può andare controllo per scrupolo ma la Serie C non dovrebbe essere di competenza esattamente perché poi si va al nord potevo citarvi l'ecco perché è qua vicino a casa mia Renate però secondo me a livello di storia nemmeno troppo recente ma a livello di storia il Messina quel non so che anche perché parte con una sfida molto importante ragazzi diciottesimi in Serie C non è facile quindi in definitiva secondo me il Messina è una bellissima sfida una sfida che vi può portare via da tanto tempo soprattutto all'inizio per salvare la squadra riportarla in Serie B anche lì fare passaggio di salvataggi riportare in Serie A dato che non si sta parlando di campionati di scarso livello e soprattutto di una squadra che non parte benissimo nemmeno a livello finanziario perché finanze ok significa che van bene ma non bisogna troppo scazzare secondo me secondo me la sfida con Messina è una sfida importante ed è secondo me veramente figa un po' meglio quando ci saranno anche tutti i vari aggiornamenti cioè gli aggiornamenti quando ci saranno le patch da applicare le mod per installare i loghi ma è un altro discorso comunque ragazzi io quello che vi dovevo dire vi ho detto secondo me queste sfide sono molto sono molto belle e per adesso non ne ho altre non ne ho trovate di altre diciamo di prezzanti a livello grafico vedo che è rimasto un po' tutto così perché non si sono sprecati più di tanti con i modelli va bene non lo lasciamo perdere quindi io vi ringrazio per avervi scritto fin qui vi ricordo brevemente ciò che vi ho consigliato quindi il Paris FC in Serie B francese il Palermo nella nostra Serie B l'Hamburgo nella Serie B tedesca e il Messina in Serie C quindi sì sono tutte squadre che partono non nella top division del loro campionato quindi c'è già una prima sfida chi più difficile chi meno per farla arrivare là e poi chiaramente ci si dipana su tanti obiettivi possibili chiaramente parte salvo tutte le varie carriere non dico facili ma un pochino più prevedibili queste secondo me sono state quelle con degli obiettivi interessanti particolari personali e copietari diciamo della squadra che si va a prendere e comunque con un minimo anche di flavor di particolarità diciamo Messina perché il Messina quel Messina era figo poi è dispiaciuto che è stato veramente buttato tutto a Ramengo il Hamburgo lo dico la Juventina la Champions di Capitan portata via a noi riportare l'Hamburgo in Champions League il Palermo con tutta la storia che ha avuto molto più diciamo estesa in Serie A rispetto a che Messina il Paris FC squadra creata non da una costa del PSG ma dovrebbe essere stata grande l'anno prima giù di lì e quindi diciamo che vuole diventare la vera squadra di Parigi tante cose fighe quindi io vi ringrazio per avermi seguito fin qui vi ricordo come sempre di lasciare un bel like un commento l'iscrizione se non l'avete ancora fatto Nel Terra Tantaname è tutto un bacione buon divertimento con la meta di FM23 noi forse la vedremo un po' su Twitch l'anno scorso sono riuscito a portarla per molto tempo vediamo cosa riusciremo a fare quest'anno un bacione e alla prossima ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti